a volte certi gesti sono più importanti del solito come questo un like è successo con i like che avete dato al video de cecco per la giornata mondiale della pasta ogni like valeva un pacco di pasta così a mano a mano che crescevano i like cresceva il numero delle confezioni fino ad arrivare a 500 mila equivalenti a circa 3 milioni di piatti di pasta che de cecco ha donato al banco alimentare un'altra conferma che un'occasione per un gesto di solidarietà è sempre portata di mano